Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini, in a 12,3 km di code a tratti per lavori tra Versilia e Massa in direzione Genova. Sulla FIPILICO denuscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze, rallentamenti anche tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno, sempre verso Livorno per attività di ripristino delle barriere incidentate, domani in orario 9.15 sarà chiusa l'entrata di Empoli Centro. Per la viabilità cittadina, Firenze fino al 18 marzo in via Dei Giacomini sarà chiusa la strada da Piazza degli Antinori a Via delle Belle Donne. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!